Ebbene sì ragazzi, è successo, siamo caduti, come potete vedere sono un po' distrutte, stavamo anche per morire noi, per fortuna se la siamo scampata, lì per terra scivolando e arrotolando come dei vrustel in padella. Io ero con il Fantic, il mio amico con la sua ragazza, con l'SH, e adesso facciamo un po' vedere le cose che si sono rotte. Il mio Fantic, mi si è piegato un orecchio, vedete, è un po' triste, ha l'orecchio un po' in giù, sono caduto dalla parte destra con lei, per colpa di uno, sono caduti entrambi per colpa di uno che ci ha tagliato la strada in rotonda, manubrio piegato, il cerchione è un po' spezzato, marmitta in dentro, pedalina che tocca il collettore, un po' di ragnatele, è successo due mesi fa questo, ho perso due settimane all'ospedale perché io mi sono rotto il domito e solo io ho avuto rotture perché ha fatto un bel volo, pensavo di essere super meno, non ha funzionato, è libera la sua ragazza, un po' mal di schiena, un po' il piede, ma niente di che, la sua ha sbattuto sia la sinistra che la destra, la parte destra, e si sono staccate un po' le carene un po' dappertutto, la povera marmitta, che ha lavorato per prendersela, è handicappata adesso, tutta storia, guardate qua, per colpa dell'incidente è successo anche questo, anche questo, e niente ragazzi, adesso sono qua, però nel prossimo video vedrete proprio il punto preciso dove siamo caduti, vi spiegherò un po' la dinamica, e noi per terra, c'è il video che ha fatto un mio amico, che è arrivato lì proprio due minuti dopo neanche, eravamo sdriati tutti per terra, eravamo dei birilli, e niente, vedrete il video nel prossimo video.